musica 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Che tanto stai arrivando? No, no, mi metterai tutto così C'è un battitacco, sai, l'appoggio del piede accanto alla frizione? Tu ci devi venire, sì, perché ci ha fatto il posto anche per quello E' una roba, sì Ma presto? Sì, subito, dopo sto io Mentre su Youtube non c'eravamo neanche truccati